Non saranno più in Consiglio Comunale e neanche nelle commissioni consigliari permanenti, ma proseguiranno i lavori parallelamente a Palazzo di Città. È la forte protesta dei gruppi di centro-sinistra presenti in Consiglio ad Andria dopo l'abbandono dell'Aula avvenuto il 31 luglio scorso durante l'assise consigliare. Il motivo è presto detto, praticamente nullo, bontoni istituzionale con l'impossibilità di svolgere il ruolo di consiglieri di opposizione. I provvedimenti che devono andare in Consiglio Comunale debbano seguire l'iter normale che nella prassi si è sempre seguito. In altre parole, conferenza di capigruppo, ma la conferenza di capigruppo delibera l'ordine del giorno relativo ai consigli comunali una volta che le commissioni permanenti abbiano esaminato le proposte di delibere e abbiano fornito il loro parere favorevole, non favorevole, si siano astenute, insomma, abbiano fatto il lavoro istruttore. Un problema tutto politico che riporta a galla numerose rimostranze del centro-sinistra nei confronti della maggioranza guidata da Nicola Giorgino. Gli ultimi due consigli comunali e gli annessi lavori nelle commissioni di conferenza di capigruppo sono stati solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso, come si dice in gergo. In particolare, dopo una conferenza dei capigruppo del 19 luglio scorso, non vi è stata una nuova convocazione dell'organo consigliare per decidere l'ordine del giorno del Consiglio del 31 luglio. Consiglio che avrebbe visto il riequilibrio di bilancio, un provvedimento molto importante che le opposizioni avrebbero voluto poter studiare con più attenzione. Carte giunte solo il venerdì antecedente, prima dei lavori consigliari del lunedì successivo. Atteggiamento ritenuto irresponsabile e lontano dalle consolidate prassi. L'assestamento di bilancio, diciamo, l'amministrazione portasse quella proposta quantomeno in una commissione del venerdì della settimana precedente, dandoci una settimana di tempo disponibile per approfondire l'argomento. Invece abbiamo avuto a disposizione neppure 24 ore con gli uffici relativi, diciamo, alla trasparenza che erano chiusi tra il sabato e la domenica. Non solo, anche internet non ha funzionato in quel periodo per poter accedere, diciamo, alla documentazione relativa. I gruppi di centro-sinistra, dunque proprio alla vigilia del penultimo Consiglio Comunale, hanno scritto e chiesto intervento da parte del prefetto della BAT, prefetto che tuttavia non ha risposto alle sollecitazioni con disappunto degli stessi consiglieri. Ci ignorano e calpestano il fatto che siamo rappresentanti dei cittadini. Ecco, ai cittadini mi rivolgo per dire loro che ci piacerebbe tanto parlare, anche in questa circostanza, dei loro reali problemi, della disoccupazione dilagante, delle tasse che aumentano, mentre il sindaco dice che non aumentano, della città sporca, insicura. Ma ci troviamo a denunciare ancora una volta il fatto che il nostro ruolo non viene rispettato, perché riteniamo che sia un precedente gravissimo. Tra l'altro stiamo denunciando questa cosa da tempo, non siamo ascoltati.